Oggi vorrei proporvi la lettura dell'ultimo libro scritto da Maurizio De Giovanni dal titolo Pioggia, edizioni in Audi. In questa storia ci troviamo in presenza del commissariato di Pizzo Falcone, o meglio dei Bastardi, che sono alle prese con l'omicidio di un avvocato, un noto penalista, Leonida Brancato, che ormai è giunto alla pensione, vive in un isolamento totale, ha lasciato lo studio non al figlio, anche egli avvocato, ma alla nipote, che sembra avere le caratteristiche giuste per portare avanti uno studio di tale importanza. Leonida Brancato viene trovato morto, assassinato all'interno della sua abitazione. Sul corpo è stata commessa, dopo l'omicidio, ulteriore violenza, e quindi questo lascia pensare, lascia immaginare al fatto che l'omicida nutra nei confronti dell'avvocato un astio che viene da lontano, probabilmente. I Bastardi di Pizzo Falcone non si arrendono, gli altri commissariati non vedono l'ora di impossessarsi dell'indagine e di chiudere questo commissariato, ma come sempre i Bastardi, con la loro tenacia e con la loro decisione, riusciranno a risolvere il caso. Perché è bello questo giallo, come tutti i gialli dei Giovanni? Fondamentalmente perché accanto alla storia principale, che è quella della risoluzione del caso, si assiste, come sempre, allo svelamento della psicologia e anche della vita, quindi, dei protagonisti. Sia dei protagonisti che sono coinvolti direttamente in quanto parte l'ESA nell'omicidio, ma anche della squadra stessa, per cui, durante la lettura, in un certo qual modo, si assiste a un intreccio tra quella che è la vita della squadra dei Bastardi a quella che è la vita di coloro che sono stati coinvolti in questa indagine. E quindi sempre tutto con molta maestria da parte di dei Giovanni, l'ambientazione, come sempre, Napoli, e non è poco, ma soprattutto, diciamo, che la bellezza dei gialli e del fatto che io mostri sempre interesse per questo genere è legata anche al fatto che fondamentalmente il giallo ha a che fare con la psicologia. Perché accanto al disvelamento di quella che è la trama, e poi quindi al ritrovamento di quello che è il colpevole, c'è sempre un meccanismo psicologico. Un meccanismo psicologico che sottende a tutte le azioni. In un certo qual modo c'è stato chi ha detto che le trame, in fondo, sono sempre le stesse, ma ciò che fa la differenza è la psicologia, la vita, l'esperienza, i protagonisti, che sono portatori di storie personali. E quindi questo fa sì che di volta in volta ci si trovi sempre in presenza di qualcosa di nuovo, di nuovo che riguarda i personaggi, ma anche qualcosa di psicologico che può riguardare noi. E quindi è sempre avvincente. Poi, indubbiamente, Maurizio De Giovanni ci ha abituato a questo stile proprio De Giovanni, se così possiamo dire. Quindi uno stile fresco, veloce, diretto, in cui i personaggi sono tutti importanti, non ci sono personaggi secondari. E quindi il gioco è fatto. Siamo quindi alle prese, come sempre, con i bastardi di Pisto Falcone, che sono particolarmente simpatici per, come abbiamo detto finora, tutta la loro umanità, che in fondo è anche la nostra. Alla prossima!